L'incontro stamattina in prefettura a Napoli per parlare di trasporti. Salvatore Sodano, soprattutto all'ora di autobus. Abbiamo parlato di autobus, l'impegno era quello stamattina con il capo del gabinetto, con il signor Polese dell'Eavobus e il dottor Marchiello della Regione con il suo staff di collaboratori. Si è parlato appunto di come risolvere la problematica che sembra sia ancora in alto mare praticamente. Per quanto l'Eavobus ha fatto un nuovo programma dove devono arrivare due pullman sempre a fine settimana o la prossima e per il 4 giugno altri 10 autobus e poi entro giugno eventuali 40 giorni comunque il 44 pullman necessario a fare un servizio minimo, devo dire la verità ai nostri sindaci che erano presenti perché se ne dica diciamo anche prima, se fuori sono stati un po' assenti in passato ma hanno fatto secondo me valere bene i loro diritti si sono impuntati dicendo noi non abbiamo ancora 40 giorni, non abbiamo neanche un giorno, dobbiamo parlare di ieri, abbiamo bisogno di pullman da ieri. Cosa ci dite? E loro giustamente non avendo niente da dirci ci hanno portato insomma un attimino tra virgoletto, ci siamo iniziati a scendere a 28 pullman, 30 pullman, ci siamo messi in campo una serie di numeri che non sono serviti a niente. Il dottor Marchiello l'unica cosa che è piaciuta e che è piaciuta a tutti ha detto noi dobbiamo dare una risposta la risposta può essere noleggiare immediatamente dei pullman che possano sopperire al momento di questi 40 giorni dove noi abbiamo fatto presente ma già ci avete dato un programma che devono arrivare e non sono arrivati non ci crediamo però mentre aspettiamo noleggiamo dei pullman oppure affrettare l'arrivo di questi fatidici pullman 10 autobus dovranno arrivare entro il 4 giugno e anticiparli a fine mese così da poter affrontare il ponte di giugno con più elasticità e con più determinazione. Io penso che comunque siamo veramente in alto mare come dicevo qualche altra volta forse non ci resta che piangere perché in questo paese non si riesce a capire 2 milioni di euro stanziati che non si riescono a spendere, 90 mila euro che non si riescono a spendere, pullman che rimangono fermi, personale che viene pagato, persone e dirigenti che prima sembrano di non sapere niente poi sanno tutto però non sanno come affrontare la cosa e non si sa come risolvere la problematica quindi io penso che forse c'è stata una negligenza generale spero che il dottor Marchiello insieme alla prefettura, al capo del gabinetto che si sono impegnati spingano con i dirigenti dell'Eavbus ad avere qualche risultato come hanno detto ed è l'unica speranza, dopodiché io effettivamente non ci resta che piangere perché penso che se non succede questo in questi giorni non avremo autobus, se non dopo le elezioni e dopo che i signori si saranno concertati un attimino il potere della regione, poi bisogna vedere che tempi ci sono dopo per avere, forse dopo l'estate ce la faremo.